alla fuori ci prova a bel sito al volo la risposta di Montefalcone Petrov ancora Bucca che ha un po' di spazio il destro la parata di Pietrangelo passaggio che non filtra ancora OneFran in spaccata Montefalcone dice di no Mercolessi che ha un po' di spazio e serve Salas che da solo Salas ancora la finta rientra Salas Pietrangelo ancora Arnon serve Sutton che torna dal 17 che si accentra ancora Arnon la parata di Montefalcone che poi risponde no anche a Giappaviera ma c'è palla per Ercolessi grande parata di Pietrangelo si invola va a puntare ancora Ercolessi la finta di Vieira il destro addosso a Montefalcone Salas Micheletto apre il destro la parata di Pietrangelo poi Duarte ancora Pietrangelo la mette giù Galliani che serve Giappaviera che da solo Giappaviera col petto Montefalcone evita il 2 a 4 Duarte Oselito di prima per Salas che va da Micheletto Pietrangelo lo ipnotizza bocca grande parata di Pietrangelo Salas Oselito sollecita subito Ercolessi 1-2 che si chiude va via Oselito Eselito la parata ancora di Pietrangelo che partita dei due portieri Sutton il destro la parata di Montefalcone rimessa ancora più che ragazzino mentre attenzione alla ripartenza al destro ribattuto e poi delle mie potenzialità di parata preferisco sempre questo ma ripeto troppiede col sinistro di Pinac quindi vince un rimpallo butabusi di sinistro Casassa in questo inizio di stagione Well uno contro uno tunnel eccolo che si è acceso poi la può gestire meglio questo passaggio a Portugale Josal Casassa che trova Wilde che cerca un gol alla Wilde arriva Pina fortissimo ma Lupinella non piega Bruno Coeio a lancio in avanti attenzione perché Alex passa alle spalle del difensore alza anche lo scavetto Weber si impegna e come un gatto torna in possesso della palla si torna da Luis Turmina corsia a destra Alex si muove in profondità la palla è per lui Alex se l'allunga va a calciare la toccata Weber ha letto bene la traiettoria all'argentino che adesso viene servito va in avanti e cerca Rito Meia che fa anche da riferimento offensivo Vito Meia ce l'ha sul destro gran palla per Santos gran parata anche di Molitierno il Napoli può andare in contropiede palla per Turmina stazione scivolata tra gli applausi del palaercole pallone poi Giosete la sporca dalle parti però di Foglia destro di Foglia respinta a terra di Weber Cabeza lo scambio attenzione ancora con Tiago Perez che si salva due volte anche da terra Punto Gherani Cabeza destro deviato Tiago Perez con la mano di richiamo che parata che ha fatto il portiere la Sandro Abate subito numerica lo scarico per Lolo su Azzo la parata di Siqueira poi ancora la Cino la tiene in campo lontana anche su un'altra conclusione di Cabeza Cabeza ancora che controllo numero 88 lo scarico Tiago Perez c'è sulla conclusione di Tuli Cabeza rientrato in campo la finita di Cabeza sull'Olo Tiago Perez c'è chiama la pressione Galan invita i suoi ad alzare il varicentro poi il Pesaro passa con enorme qualità Toni Dandella la respinta di Dovara blocco centrale perde Oliveira si fa vedere a rimorchio di Luca c'è anche Cuzzolino buono il movimento di Cuzzolino spara poi l'intervento di Dovara riparte Rossetti che cerca la conclusione la copertura di Cuzzolino poi Taborda Onorio lancio illuminante per Borrutto che arriva davanti a Dovara bravissimo Rossetti servito Rossetti prova a far valere il fisico il tiro Miarelli due volte super Campoi con qualità fa ripartire Galan sulla corsia Galan sterzata splendida Galan Miarelli ancora con il petto la battuta di Galan alza questo pallone per Musumeci al volo Miarelli bello tutto per Maltauro ecco un'occasionissima occasionissima Rafinha alza il pallone decisivo il tocco di Dalcin pallone che sbatte sulla parte alta della traversa termina in calcio d'angolo Rafinha per Parrelle il controllo e il destro ancora il tocco decisivo di Dalcin stavolta plastico il portiere della Feldeboli rivediamo l'azione destro di Parrelle che sarebbe probabilmente terminato sul pallone Rafinha che va da Parrelle può rientrare va dall'altra parte da Fetice una parata mostruosa di Carlos Dalcina con il piede allunga la zampona il portiere in maglia numero 3 della Feldeboli parata stratosferica di Carlos Dalcina l'altro